ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo su vampire survivors un gioco che è il gioco del momento oserei definire lo sviluppato da un italiano un italiano trasferitosi in inghilterra ed è un gioco che costa 2 euro e 39 perché sta facendo parlare di sé perché crea dipendenza sua frazione è un gioco che più o meno lo stesso successo che ha avuto loop hero ed è un gioco dove noi interpreteremo diciamo un protagonista che potremmo anche cambiare sbloccare che attacca in modo automatico noi dovremmo regolare solo la presa diciamo degli oggetti che ci danno esperienza e scegliere come evolvere il nostro personaggio e ovviamente muoverlo schivando i nemici ma lui attaccherà in automatico ed è molto particolare perché vedete abbiamo un sacco di personaggi che poi potremmo anche sbloccare abbiamo antonio imelda pasqualina gennaro ma in realtà hanno un nome antonio belpaese imelda belpaese pasqualina belpaese e ci saranno anche altri personaggi con nomi un pochino più diciamo controversi possiamo sbloccarli spendendo dei soldi in questo caso ne abbiamo solo 58 io posso prendere antonio che ha la farusta o imelda che ha una uno scettro magico insomma usa la magia lei guadagna 10 per cento in più di esperienza ogni cinque livelli lui invece fa 10 per cento più di danni ogni dieci livelli iniziamo con antonio io l'ho già giochicchiato un pochino iniziamo vedete noi scegliamo come muoverci con w sd cliccando col mouse lui attacca in automatico vedete che lui fa gusta solo nel verso dove siamo girati questo potrebbe sembrare banale ma il motivo di questo video appunto farvi capire perché ha avuto questo questo successo vedete noi adesso ci stiamo stiamo amministrando la nostra vita attaccando e al momento il danno che facciamo è questo ma fin quando non recupereremo queste sfere blu non potremo fare l'esperienza l'esperienza la vedete lì in alto l'abbiamo appena fatta ora abbiamo la possibilità di sbloccare uno tra questi colpisci i nemici più vicini più danno e lo sblocco di nuovi personaggi è legato non solo all'esperienza ma anche ai minuti che noi sopravviviamo e anche a quanto livelliamo un'abilità con uno specifico personaggio io adesso prendo la magic wand vedete che fa anche questo danno magico intanto io devo recuperare tutta sta roba cercando di limitarmi la vita più possibile vedete che io adesso poi arriveranno nemici ovviamente più potenti e arriveremo anche in altre ambientazioni camminando camminando insomma vedete abbiamo già fatto un altro livello qua possiamo decidere di sparare un proiettile in più generare danni ad area e o un proiettile in più vi faccio vedere anche questo lui butterà una pozzangherino ogni tanto arriverà penso dal cielo ecco vedete e i nemici su questa pozzanghera qui prenderanno danno adesso si iniziano a vedere nuovi nuovi nemici il gioco ha una recensione delle recensioni una media estremamente positiva e diciamo che il prezzo è assolutamente ottimo calcolando che costa 2 euro 39 e vi consente di ma non vi direi neanche che un gioco da cinque minuti cioè vi fate i cinque minuti poi dovete uscire avete da fare perché può durare ben più di cinque minuti se siete bravi ma è un passatempo nel senso non sapete cosa fare oppure state ascoltando magari un podcast o un video e intanto giocate orbitan la il re bibbia spinaci armatura no io faccio questa che veramente è molto dissacrante come titolo cioè non è adatto a tutti per quanto rimanga sul politicamente corretto adesso abbiamo questa bibbia che gira intorno abbiamo anche un forziere quindi adesso io tatticamente mi porto via i nemici e accedo al forziere e lo aprono e all'interno troviamo diverse diverse cose a monete quindi possiamo prossimo turno siamo oltre alle 100 monete sbloccare qualcosa ok e spariamo un proiettile in più con la bibbia e abbiamo anche livellato quindi aumenta la vita del 20 per cento un proiettile in più facciamo un proiettile in intanto prendiamoci per tutta questa esperienza abbiamo due bibbie che girano o sta arrivando uno stormo questi stormi attaccano determinate zone ma non ci inseguono quindi non abbiamo ancora un attacco sufficientemente forte intenso da posso seguirlo e fare un po di un po di exp ci stiamo infilando in un ginepraio devo tornare giù prendere quell'esperienza lì mi sta facendo tutto molto male tra poco livelliamo ancora ok abbiamo livellato un proiettile in più più danno e no ci muoviamo 10 per cento più veloce preferisco la velocità in questo caso non è proprio agevolissimo questo personaggio nel danno perché il danno almeno il danno della frusta punta nella zona in cui stiamo guardando e quindi non è comodissimo dobbiamo essere abbastanza bravi però questo gioco è la conferma di come con dei mezzi semplici si possa creare un gioco davvero drogante velocità più 10 si più 10 che ci muoviamo più 20 per cento rispetto a prima adesso siamo è un surplus in più i nemici sono cambiati in questa zona perché sono diventati scheletri ma io ho ancora tutta questa esperienza da prendere adesso voglio capire siamo livello 7 stiamo giocando da 3 minuti ci sono soldi in giro c'è un po di tutto dovrà anche il modo di recuperare la vita tra un po allora non tutti gli scheletri dovrebbero tecnicamente morire con un colpo solo quindi bisogna tenerci un po a distanza e adesso l'esperienza inizia ad essere più lunga da fare sono muoiono subito quindi mi devo spostare in un luogo anche in modo tattico in modo da attaccarne il più possibile fare più esperienza no bene adesso siamo abbiamo quasi fatto il livello 8 e in questa rana abbiamo ottenuto 88 monete finora magari salta fuori qualche altro forziere magico qualcosa del genere ok allora abbiamo un coltello colpisce velocemente nella direzione in cui stiamo ok proviamo abbiamo anche il coltello adesso quindi attacchiamo con il coltello con tempi sicuramente diversi però vedete gran c'è anche il coltello quindi questo è interessante perché attacca lontano e non solo nella range attacca anche in diagonale mentre la fa rustano e questo è interessante da capire adesso siamo passati ai fantasmi perché la musica è abbastanza da lounge bar ci saranno delle zone anche protette insomma è capitato una volta sola da magari funghi o qualcosa magari se ci va di di sfiga ci ritroveremo all'interno e quindi dovremo o pensa eccolo qui infatti eccolo qui praticamente noi possiamo uscire può continuare sperando che di riuscire a demolire questi 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 fiori che non so quanta vita abbiano ma sicuramente cerco di prendere mia esperienza no sono morto sono morto sono morto sono morto kit si esce ci dice quanto danno abbiamo fatto quanti poi abbiamo ottenuto livelli arrivati 628 nemici la prima con questo ne uccisi oltre mille un forziere due monete raccolte abbiamo un achievement 6 differenti armi per una volta in una volta ok e praticamente ora magari possiamo il power up possiamo potenziare spendendo dei soldi vedete darci un qualcosina in più al personaggio mentre unlocks ah no ok qua sono tutti gli achievement ok collection tutto quello che abbiamo scoperto finora 13 di 84 e iniziando possiamo andare a comprare pasqualina o gennaro pasqualina pasqualina la proviamo immediatamente e credo che non dureremo molto con pasqualina non ha un gran danno spero di perché rimbalza un po dove ce ne ha voglia quindi spara sempre a destra a sinistra cioè sì questo è un po a nono spara nella direzione opposta qui stiamo andando così si lascia nemici dietro quindi praticamente questa è una classe da da anni insomma dove si scappa e fatti stavo scappando in questa direzione è attacca orizzontalmente passata ad essere nemici più alto danno attacco orizzontalmente ah ok adesso abbiamo anche il danno del tizio che avevamo prima quindi quel danno con la frusta ora lo facciamo anche così il gioco è in può partire in finestra lo schermo intero ma come potrete vedere ci sono dei problemi di acquisizione perché dovrebbe esserci no anzi probabilmente non la vedrete perché il gioco è centrato ma mi dava una banda nera sulla sinistra adesso bisogna andare a prendere l'esperienza perché solo uccidere i nemici non ci porta a nulla mi serviva anche un po più di velocità ma solo che mi domando cosa servono questi così qua questi qua vanno paesi ecco il classico gioco in cui voi pensate di conoscere tutte le meccaniche poi scoprite delle cose nuove prendo la bibbia anche qui perché è molto utile credo di averla presa anche se non la vedo ma sì ecco la ricca gira però sparisce non è fissa poi quel pipistrello lì con la zona evidenziata intorno è più potente degli altri voglio capire che cosa succede se ok sparo un proiettile in più prendo un po di cure voglio vedere cosa succede se distruggo questi cioè mi dà qualche bonus sì è un taser davanti di 5 sì mi piace perché mi muovo più veloce faccio più danno se ci finiamo in mezzo siamo praticamente morti voglio capire sì abbiamo fatto un botto di esperienza adesso perché prima mi dava questi calderoni questi braceri tra le cose da prendere non ne avevo mai presi quindi adesso siamo a livello 5 si livella abbastanza velocemente non è che c'è una fine bisogna resistere il più possibile poi può essere interessante confrontarsi con altri con altri nel mondo ma questo può essere interessante perché può essere una zona in cui gli altri no gli altri ci volano sopra quindi in questo caso non vale come difesa solo che voglio capire se dopo un po arrivano gli scheletri comunque o è solo una cosa dovuta alla zona no 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 è proprio il livello il momento diciamo di il gioco può supportare centinaia di unità come potrete vedere sicuramente dagli screen su steam quindi vi ritroverete di fronte a decine se non migliaia di unità di nemici che vi inseguono perché c'è esperienza lì è morto qualcuno così a distanza ok scudo qua abbiamo uno scudo lo scudo si attiva ogni tanto non ci fanno danno e questo è un game changer dipende quanto rimarrà attivo aspetta voglio prendere il braccio e vedere se no non mi ha dato esperienza in alto a sinistra vedete le le barre con tutte le le armi che abbiamo a disposizione cose sbloccate che abbiamo cliccando qui si mette in pausa eh ho fatto pirla adesso ne ho uccisi 400 non mi piace tantissimo pasqualina tantino pasqualina però ecco fa piacere che il gioco sia italiano con recensioni estremamente positive ora abbiamo finito allora ecco mi conta no non me li conta 5 monete ok ho sbloccato anche un achievement su steam tra l'altro ah 20 fonti di luce ok no posso distruggerle non mi danno esperienza ma è un achievement e niente abbiamo 51 monete insomma e si andrà avanti comunque giusto per ringraziare Luca Galante è lo sviluppatore Alessio Greco è per l'artwork e poi sound and music Daniele Dondara William Davis play on loop Lorenzo Floro insomma e poi anche altra gente insomma per le animazioni e così il gioco non è in italiano per quello che non c'è da leggere insomma non c'entra assolutamente nulla versione 0.8 in early access gran successione per lui 2 euro 39 prezzaccio io so di persone che conosco che lo hanno preso ne sono si sono divertite insomma quindi fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video game play alla prossima ragazzi e ciao ciao grazie a tutti Grazie a tutti